Autonoleggio MyRentCar Autonoleggio MyRentCar Siamo in via Ponte di Tappia numero 55 Napoli Info 081 19 24 00 53 Oppure 388 49 78 026 Ci trovi anche su Instagram MyRentCar Per una tua convenienza contattaci e scoprirai i nostri prezzi modici MyRentCar per viaggiare sicuri MyRentCar Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti